. Simone Izzo in lacrime ricorda la morte del padre, mi manca la sua mano. Simone Izzo ha vissuto un momento di sconforto nella casa del grande fratello Vip. . L'attrice, regista e doppiatrice si è abbandonata a uno sfogo in solitaria, ad alta voce, in cui ha ricordato la morte del padre Renato Izzo, avvenuta otto anni fa. Nel ricordare un sogno fatto la notte del funerale, Simona non ha saputo trattenere le lacrime. La Izzo parla del padre e si commuove. Questo il monologo della Izzo, video. Quando è morto mio padre e sapevo che le mie sorelle andavano a vestirlo ma io non ci sono andata, non ce l'ho fatta. . La notte del funerale ho sognato che quando ero bambina lui mi diceva che la sua mano non sarebbe stata sempre tesa, che si sarebbe fermata come infatti si è fermata. Mi diceva che dovevo trovare un'altra mano e che avrei trovato altre persone cui serviva la mia mano. Ho lasciato la sua mano e ho preso quella di tutti gli altri. Però ogni tanto mi servirebbe la sua mano. Aveva mani da contadino, e invece era un regista, uno scrittore. Perché mi metto a piangere, non so. Volevo solo fare una chiacchierata con qualcuno che mi ascolta. . Ha recitato in film come Moglie e Buoio o i giudici Excellente Cadavers diretto da genero Ricky Tognazzi, ha sceneggiato diversi spaghetti western e ha prestato la voce, tra gli altri, a Giuliano Gemma, Thomas Millian, Clint Eastwood e Henry Fonda. Ha fondato una vera e propria dinastia di doppiatori, Simona e le sorelle Rossella, Fiamma e Giuppi hanno intrapreso lo stesso mestiere, come pure i loro figli. L'appello della Izzo a Ricky Tognazzi. Non è la prima volta che la Izzo si abbandona a sfoghi emotivi nella casa del GFV. Alcuni giorni fa è scoppiata a piangere sentendo la mancanza del marito Ricky Tognazzi e del figlio, nato dal precedente matrimonio con Antonello Venditti, Ricky vieni, vieni in trasmissione. Anche mio figlio Francesco, se venisse sarebbe meraviglioso. Ho una malinconia terribile. Grazie per la visione.